Una linea incentrata su funzionalità ed eleganza, quella scelta da Mobilvetta per gli innovativi motorhome Capayot Tecno Line. Proposti in perfetto stile automobilistico, si distinguono per design e tecnica costruttiva. Partendo dal frontale, che è completamente nuovo, abbiamo adottato una parabrezza di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale, quindi maggior visibilità che poi si traduce in maggior sicurezza di guida anche. Tra le novità, l'introduzione della nuova Scocca i-Tec 4.0, contraddistinta dalla totale eliminazione di qualunque componente in legno da pavimento, pareti e tetto. Modello maggiore della collezione Tecno Line, il Capayot MH89 Grande Fuori e Dentro, propone ampi spazi ben gestiti su tutta la pianta a partire dalla zona notte, con matrimoniale centrale dove il letto posto tra due armadi guardaroba ed altri tanti comodini, è regolabile in altezza in funzione delle esigenze di carico del sottostante garage, separato dalla zona giorno da una doppia porta scorrevole semicircolare che unisce la parte posteriore della toilette alla doccia indipendente. Abbiamo portato la finitura lucida del piano tavolo che si ricollega a quella sempre lucida dei pensili e del curvo della cucina. La zona living presenta una semi-dinetta con elegante divano ad angolo con tavolo centrale regolabile tra i due sedili girevoli in cabina guida e la poltroncina contrapposta. Il blocco cucina L con sportello curvo lacato lucido è invece opposto alla colonna frigo separata. Come per tutti i veicoli a marchio Mobilvetta, anche il Tecnoline K-Yot MH89 si caratterizza oltre che per l'adozione della nuova scocca dal pavimento da 54 mm di spessore abbinato al telaio ribassato Fiat Camping Car Special per evitare vibrazioni e sollecitazioni alla struttura. Il Tecnoline, e questo è quello che caratterizza in particolar modo il naming dell'evoluzione del K-Yot, è dotato di un doppio pavimento tecnico che consiste nella scatolatura di questa struttura meccanica alta 130 mm con un materiale in polipropilene che si chiama Esalite caratterizzato dalla struttura alveolare che ha come caratteristiche principali il migliore isolamento termico e anche acustico. Tutta questa scatolatura poi dà una maggiore rigidità attenzionale al veicolo. È inoltre costituito da un sandwich con rivestimento esterno in vetro resina pigmentato e coimmentato in styroform come quello interno in PVC antiscivolo e resistente all'abrasione che ricorda le piastrelle di casa. Insomma, un modello davvero al top, il Tecnoline K-Yot MH89 prodotto dalla toscana Mobilvetta, fiore all'occhiello del gruppo SEA per stile, design e funzionalità. Mobilvetta Tecnoline K-Yot MH89 nato grande per comodi viaggi in camper.